Buonasera, ti farò un po' di domande. Nome dei componenti della band? Niccolò Onnesi, Riccardo Boldrini, Cosimo Valenti e Riccardo Tempestini. Come vi sentite prima di un'intervista? Io personalmente agitato un po', poi sono un po' da solo. Mi hanno lasciato da solo. Definite il vostro genere. Pop, rock, punk. Pop, rock, punk. Meglio le cover o i prezzi propri? Pezzi propri, ma anche una bella cover riarrangiata e fatta bene. Fammi un urlo? Sì! Cosa ne pensi del rock italiano? Cosa ne penso? Sì, potrebbe migliorare. Però, perché secondo te la musica non vende? La musica non vende perché? Eh, bella domanda. Diciamo che vende più la musica rock, molto meno. Infatti è... No, non so rispondere a questa cosa. Cosa ne pensi dei reality musicali? I reality musicali... I reality musicali sarebbe bello parteciparne, renderne parte ad uno. Darebbe ovviamente pubblicità, però non mi piacciono personalmente. Ok, ora mi dirai favore o contro? Ok. La discoteca? Contro. L'heavy metal? Favore. Festival di Sanremo? Favontro. I revival? Favore. Un download illegale? Favore, certo. E la gnocca? Favorissimo. Vascorosso Ligabue? Ligabue. Nome di un gruppo o di un artista preferito? Easy DC. Cosa ti aspetti da questo Rock Tower Fest? Di divertirmi, ovviamente quella è sempre la prima cosa. Un bel pubblico caldo e come prima, tanta gnocca insomma, bella sempre. Dimmi la verità, perché hai iniziato a suonare? Non solo per rimorchiare, però per divertirmi, per stare bene, insomma. Sì, sì, sì. Il tuo primo pensiero prima di salire su un palco? Devo spaccare tutto. Quando ti rivedrai in questa intervista, cosa penserai? Eh, male. Male, male. Un consiglio che daresti a chi ti sta guardando? Non guardarmi più. Salutaci con un motto. Con un motto. Perfetto. Allora ci si vede il 19 giugno a San Casciano, Parco Ippogione, Rock Tower Fest 2016, ok? Sì, noi siamo i Lapsus, seguiteci anche su Facebook, Lapsus, pubblicità occulta. Ciao a tutti. Ciao a tutti.